Salve a tutti, benvenuti a questo quarto incontro di Pagina Piegata Arte, condotta da Claudio Brunello, sottoscritto artista e promotore culturale. Naturalmente, lo ripeto, Pagina Piegata è un incontro dedicato all'arte contemporanea. Andiamo a incominciare. Questo quarto incontro protagonista sarà l'espressionismo astratto, l'informale e il gruppo Gutai. Cominciamo con la prima parte, che riguarda appunto questo quarto incontro, sarà l'espressionismo astratto. Mi sono vestito di rosso, come vedete, perché? Perché l'espressionismo astratto è scoppiettante, pirotecnico, il rosso poi è il colore per l'antonomasia. E a questo proposito voglio citarvi un ottimo libro da leggere, è molto leggero, preso a 5, 6, 7, 8 chili, è un tomo. L'autore è Michel Pastorot, un esperto di colori, di tutti i colori. Non lo consiglio da leggere a letto perché potreste farvi male se vi scivola delle mani. Quindi è un libro da leggere tranquillamente su una scrivania. Ha delle bellissime fotografie e testi potabili. Allora, pertanto, partiamo così, come abbiamo già chiedito le altre volte. L'arte contemporanea, per come la vedo io, è cominciata nel secondo dopoguerra. Periodo assimilabile appunto al colore rosso che indosso oggi. Vi ricordate la metafora della soglia che vi ho detto l'altra volta? Pertanto nel secondo dopoguerra moltissimi artisti hanno oltrepassato la soglia e sono entrati in uno spazio buio. Hanno rischiato ma hanno intrapreso percorsi forse assimilabili a quelli che facevano, non per pericolosità, intendiamoci, però come curiosità assimilabili a quelli che facevano i navigatori per esplorare il mondo intero attraverso oceani senza una precisa destinazione. Quindi tutti questi artisti che hanno provato a attraversare la soglia ed entrare in una stanza buia e sconosciuta hanno trovato qualcosa di molto importante, hanno conosciuto, hanno aperto nuove prospettive per l'arte. Negli Stati Uniti si sono poi persi in percorsi, chiaramente, però i percorsi dell'arte contemporanea sono moltissimi, ci si perde, ma anche questo è il piacere dell'arte, è perdersi. Forse è questa anche una delle funzioni dell'arte. Entriamo nel vivo dell'espressione artistica. A dar fuoco alle polveri, proprio, pum, ci hanno pensato diversi artisti, come prima vi ho detto tre espressioni. Dall'Istituto Uniti d'America ci hanno pensato gli artisti dell'action painting, ovvero la pittura d'azione. Nell'Europa l'arte informale e dal Giappone il gruppo o movimento gutai. Singolare è questa cosa, dislocazione a livello geografico di questi movimenti che sono tutti quanti, come si può dire, fratelli fra di loro. Pensate alla Seconda Guerra Mondiale. È esplosa in Europa, ha coinvolto gli Stati Uniti, il Giappone a sua volta, alleato dalla Germania, ha coinvolto gli Stati Uniti, quindi nell'emisfero nord del nostro pianeta si era creato questo meraviglioso avvenimento, meraviglioso dal lato drammatico. Gli artisti, terminato questa Seconda Guerra Mondiale, hanno deciso di sfogarsi probabilmente dopo decenni di repressioni, di privazioni e di dolore. I primi però inconsapevoli, a mio avviso, artisti precursori della gestualità astratta, furono intorno al 1800 erotti. William Turner, se qualcuno di voi lo conosce, le famose sue tempeste marine con galeoni che scomparivano, oltre altissime, uragani e ridicendo, lì era già quasi l'embrione dell'arte astratta d'espressione. Un altro molto celebre invece, più di William Turner, è Vassili Kandinsky. Alla fine del suo periodo del Cavaliere Azzurro, quando era un espressionista figurativo e prima di essere un astratista geometrico, ha avuto un periodo che chiaramente era un astratismo informale, inconsapevole anche lui. Però qui c'erano già gli embrioni per quel che sarebbe stato poi dopo, come la volta scorsa vi ho anche elencato una serie di artisti, che hanno dato degli input per quel che sarebbe stata poi l'arte contemporanea che vive fino ad oggi. Pertanto, per capire l'espressionismo astratto, è un modo di fare arte che dà libero sfogo al proprio inconscio. In questo modo si libera dell'angoscia, delle sue riquietezze, con il movimento fisico del dipingere. Non è più una pittura da cavalletto, calma, riflessiva, attenta a copiare, ma qui diventa veramente una esplosione. Il fisico si libera in tutti i suoi gesti. Ci si cammina sopra, ci si può rotolare e via dicendo. Per questo scopo utilizza tutti i mezzi espressivi, anche quello classico del pennello, ma lo usa in un'altra maniera, diverso. Quindi infrange tutti i canoni classici della pittura, atteggiamenti, è tutto scardinato, come buttare giù un portone ed entrare proprio a lei, buttiamoci. Quindi per manifestare questo sfogo enorme che avevano gli artisti occorrevano superfici grandi, cioè grandi tele. Qualcuno la metteva a pavimento, altri a parete. Dovevano dare spazio a un po', vi faccio un esempio, questa mano, questo tratto così, occorre una grande tela. se io lo faccio su una tela così, no, no, no. Non rende l'idea di questo gesto di sfogo, è il colore che schizza sul soffitto, sulle pareti, sul pavimento, fa un cesso veramente. Ma lì la bellezza dell'altra strata d'espressione. Partiamo con action painting, come vi ho detto prima, ovvero la pittura d'azione. Non vuole esprimere qualcosa di reale e di oggettivo, ma vuole liberare proprio quella tensione che hanno gli artisti dentro, che si è accumulata in grossi strati, un peso enorme, come dire, mi ingoio un petardo e mi faccio saltare per aria. Più o meno è una roba così, oddio, a livello pittorico, naturalmente, perdonatemi certe similitudini. L'azione non è pensata prima e né progettata, ma è istintiva. Gli effetti poi sono ricchi e imprevedibili, ricchi di spontaneità e imprevedibili. Quindi manifestano proprio l'umore dell'artista che può essere arrabbiato, felice, voglia di giocare, triste, depresso e via dicendo. Allora, per entrare meglio anche in questo contesto dobbiamo capire anche il periodo vero e proprio. Fine Seconda Guerra Mondiale, quindi dagli anni 45 al 55 più o meno. È un periodo postbellico per cui tutto da ricostruire, da rinventare, da ripensare, dove si affermava la meccanica quantistica, la psicanalisi, il jazz di Miles Davis, il rock and roll di Elvis Presley si stavano evolvendo e stavano cambiando il mondo. La coscienza della civiltà del mondo occidentale cambiava, cambiano i parametri estetici, si muoveva praticamente c'era veramente un turbinio di cose. Gli artisti dell'action painting creavano le loro opere per stimolare proprio l'emozione dello spettatore, per toccare nel profondo il loro subconscio e lo facevano dipingendo più o meno inconsciamente, lasciandosi guidare dall'emozione. Inoltre, fatto non secondario, questo è da dire, l'action painting fu appoggiata, cosa che se avvenisse anche oggi sarebbe un miracolo, appoggiata da governo americano per imporre al mondo occidentale l'arte americana. Prima la capitale era l'Europa con Parigi, dopo la seconda guerra mondiale Stati Uniti, New York. Gli artisti più rappresentativi dell'action painting Jackson Pollock, Mark Rothko, Franz Klein, William de Kooning, Robert Motherwell, Ard, Reinhard e via dicendo, è davvero un elenco anche piuttosto lungo. Però mi soffermerò sui primi tre che vi ho menzionato. Jackson Pollock, 1912-1956, queste sono le date nascita e morte. Riconosciuto l'inventore del dripping, ovvero, come vi faccio vedere da queste fotografie, il suo modo di dipingere, vedete, faceva gocciolare il colore del pennello, a volte bucava anche il barattolo facendolo uscire da sotto il colore e o con un bastone, poi si narra anche con una scopa e via dicendo. Ecco qua, questo è il dripping, cioè faceva gocciolare il colore direttamente sulla tela disposta a terra, tela, come vedete, di grandi dimensioni. Quindi, con questo modo di agire, Pollock si sentiva dentro l'opera e lui dipingeva in un modo incessante, quasi frenetico, li girava intorno danzando come un pelle rossa, proprio, forse anche influenzato dal periodo dove lui ha vissuto e la conoscenza anche diretta con i nativi americani. poi c'è il russo naturalizzato americano Mark Rothko 1903-1970 è artefice di un astrattismo se vogliamo lirico, una cosa molto delicata. I colori decisi che lui metteva sulla tela creano un'eccitazione quasi strati e strati di colore e qui ve ne faccio vedere alcuni eccoli qua praticamente faceva dei grandi rettangoli e dei quadrati li sovrapponeva con colori diversi e i bordi molto sfumati quindi queste opere creavano un'emozione guardandole in modo statico e con un po' di attenzione ti senti quasi ingoiato dentro l'opera attratto entri nell'opera creandoti delle emozioni non facilmente indiscrevibili poi sono molto soggettivi ognuno ha le sue Mark Rothko per finire il terzo artista che vi ho menzionato prima è Franz Klein americano 1910 1962 meno conosciuto dei tre Klein agiva su tele monocrome bianche grandi tracce di segno nero che vi faccio vedere eccolo eccolo qua e resto col libro così avete modo di vedere con attenzione grandi tracce di segno nero che vi stavo dicendo sono un soggetto affascinante le dipinge con una certa azione e istintività però singolare il suo modo di agire perché dopo interveniva con calma e attenzione ridipingendo di bianco le parti che lui riteneva non necessarie quindi era una correzione all'istinto un modo diverso da agire da Pollock e da Rothko molto diverso però tutti accumunati nell'action painting uno degli artisti che più mi ha affascinato quando ero anche studente insieme a Kandinsky e tanti altri Mondrian, Klein e compagnia io ho avuto molti amori nel tempo unico solo mia moglie allora quello che risultava di Klein alla fine delle sue opere erano delle sorte di architetture quasi architrali o tavoli dico delle cose di richiamo figurativo per avvicinarmi anche a un gusto più popolare però una cosa interessante aveva anche che richiamavano delle particolarità giapponesi sembravano quasi degli ideogrammi delle matrici di ideogramma giapponese una cosa particolare che la ritroviamo poi nell'informale europeo con questo terminato grazie grazie per l'attenzione la prossima l'informale europeo ciao da Claudio Brunello grazie per l'attenzione